Doppia seduta di allenamento oggi per gli uomini di Massimo Rastelli, allenamento piuttosto blando in mattinate, i bianco-verdi sono scesi in campo intorno alle 10.30 e sono rimasti sul terreno verde per circa una mezz'oretta, scarsa addirittura, nella quale hanno giocato semplicemente una partitella a metà al campo per poi rientrare tutti ordinatamente in palestra, complice anche il freddo pungente del partenio. Ovviamente il pensiero maggiore di Massimo Rastelli è smaltire l'influenza liberale dell'infermeria, ci è quasi riuscito perché ci è rimasto solo Ceccarelli che ha qualche linea di febbre e non si è allenato, al pari di Antonio Matera che invece non è al partenio perché ha usufruito di un permesso familiare, per il resto sono tutti arruolabili. Come vi dicevo, allenamento blando, quello che si definisce mantenimento atletico in vista di un'altra mini pausa che ci sarà tra il 31 e il primo di gennaio. Intanto ci saranno porte aperte anche domani per ricevere l'abbraccio dei tifosi, tra l'altro stamattina c'era qualche curioso che ha assistito all'allenamento, poi dal 2 si cambia registro, si comincerà a far sul serio per puntare alla prossima sfida, quella del 7 gennaio di Agropoli. Per il resto, nota di colore, si sono visti i portieri in campo, un allenamento un po' più lungo sul campo, si sono sfidati che era in porta, parava rigori e punizioni degli altri compagni, non esattamente esaltanti le prestazioni al tiro dei portieri, ma comunque apprezzabile lo spirito, erano divertiti, erano sorridenti e questo fa credere che lo spogliatoio sia assolutamente sano. Come vi diceva, allenamento blando, poi chi ben comincia a metà dell'opera, l'Avellino comincerà a far sul serio a partire dal 2 gennaio.